Sta per aver inizio la cerimonia del giuramento solenne di fedeltà alla patria degli allievi marescialli del sedicesimo corso. Il battaglione allievi preceduto dalla banda dell'aeronautica militare e dai gagliartetti dei corsi precedenti, Altair, Bladar, Chiron, Deimos, Elios, Pobos, Gladius, Nitar, Laran, Mitrax, Nash, Oloris e Fenix si appresta a fare ingresso sul gazzale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Segue la formazione giurante degli allievi marescialli del sedicesimo corso agli ordini del senente colonnello romano dell'aereo. Buongiorno. 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 Agli ordini del maggiore Simone Marziani. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.